ma non mi dico di fanku lo chiede mo si te una volta un po' io di timing dai occhio che c'è il c**o che vorrei esplorio vabbè è l'instar da un'aricata è lì, è giù qua, vedi? è lì, è giù qua, vedi? angolo è vero, che cosa? aspetta, aspetta, aspetta! Deguando, ragazzi! un non D'è un мехanuno! due peinti delbu 영 research ah, che cosa oddio insieme? Prescatore attivo. Proteggetelo a tutti i costi. Uuuuh. Prescatore attivo. Scompa che ho fatto. Provo come hai detto ai tempi. Pazzie. Fuck you bitch. Falta.